Mi ami tu, Filippo, sei Gesù che io ti amo. Allora tu ama il tuo prossimo con lo stesso amore che mi ami me. È l'estratto di un breve dialogo tra Gesù e Don Elia Bellebono, sacerdote e apostolo del Sacro Cuore nato nella Bergamasca l'8 ottobre 1912 e vissuto in una celletta dell'eremo camaldolese di Montegiove a Fano dal 1974 fino alla sua morte. avvenuta nel settembre del 96 all'età di 84 anni. Don Elia diventa sacerdote a 65 anni dopo aver ricevuto una speciale dispensa dalla Santa Sede. La sua vita è stata assegnata da eventi sopranaturali straordinari, riceve apparizioni del Sacro Cuore di Gesù per moltissimi anni. Don Elia viene inviato in ogni parte d'Italia a convertire persone mai conosciute prima. Ma è nel 1969 che Gesù gli fa una richiesta di quelle quasi impossibili da realizzare per un uomo povero e semplice come lui. Gesù gli manifesta la volontà di costruire un santuario dedicato al suo cuore nella città di Urbino. Ed eccolo qui il santuario, a vent'anni dalla morte del suo fondatore. I lavori non sono stati ancora ultimati, ma grazie all'intervento del Vescovo di Urbino Giovanni Tani recentemente hanno avuto una forte accelerazione. Della vita di Don Elia e del santuario di Castaccolo si discuterà domani mattina in un convegno patrocinato dall'Arcidiocesi che si terrà nell'Aula Rossa di Palazzo Battiferri a Urbino a partire dalle 9.30 con ingresso gratuito. Sul perché sia stata scelta la città ducale come luogo per costruire quest'opera è lo stesso Gesù a spiegarlo al sacerdote. Oltre al santuario desidero che ci sia anche una casa di spiritualità perché ci sono tanti universitari che ne hanno bisogno e sono come pecore senza pastore. Per molti questo santuario diventerà come Lourdes, Fatima o San Giovanni Rotondo e non importa se ci sono voluti vent'anni per realizzarlo perché è noto che i progetti di Dio sono sempre contrassegnati dalle difficoltà e dalla sofferenza ma prima o poi si realizzano. Grazie a tutti